Il Botteillon è una manifestazione spontanea che però noi combatteremo in tutti i modi. Segnaleremo alla polizia postale tutte le pagine Facebook e dei social utili a rintracciare gli organizzatori del Botteillon, compresi i profili di chi condividerà l'evento. Il sindaco di Padova aveva annunciato il pugno di ferro contro il raduno alcolico in Prato della Valle, previsto il 27 maggio e le decisioni non si sono fatte attendere. Il Tantam su Facebook si sussegue da giorni con molti ragazzi che hanno già aderito all'evento. Piton ci sta mettendo a punto il piano antibotteillon senza fare sconti con lo scopo di demotivare gli organizzatori ma anche tanti partecipanti, dando il via libera alla polizia locale di segnalare alla polizia postale i profili incriminati. Una manifestazione che la città non vuole avere e quindi se qualcuno la farà si prenderà anche le responsabilità e noi schiereremo le nostre forze dell'ordine.